Questo qui è un video di complimenti, perché di complimenti dobbiamo farne, insomma, lo so che siamo a inizio campionato e probabilmente saremo pieni, 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 pieni di cose da dire, di cose da commentare man mano che andiamo all'interno della stagione, però comunque quella di Cancelo è una stagione finora, cioè un inizio di stagione, credo veramente al di sopra delle aspettative, perché nessuno credo si aspettasse da Cancelo questa voglia di fare, questa aggressività che in questi giorni qui alla Juventus sta mostrando, Salve a tutti ragazzi, sono MetriP10, se non l'avete ancora fatto iscrivervi al canale mettete un bel like al video di MetriP10 e non vi dimenticate che mi sto in piccia pure di cliccare sulla campanella delle notifiche e sui link social che vi posto in descrizione, la settimana scorsa dopo che io ero una Juventus, uno dei video di approfondimento della gara era stato dedicato a Cancelo, tante, tante, tante critiche che avevo letto su internet a proposito appunto del ragazzo ex Valencia e it, perché Cancelo non sa difende, Cancelo ha provocato il rigore, Cancelo è troppo timido in fase difensiva, Cancelo ha fatto sacco e contro la Lazio per me è stato uno dei tre migliori in campo, i migliori per me sono stati, se avete visto le mie pagelle, Cancelo, Matuini e Chiellini che sono stati secondo me monumentali tutte e tre in maniera diversa, in zone diverse del campo. Cancelo sicuramente ha fatto il suo, nonostante non ci sia stato tanto attacco della Lazio dal punto di vista delle fasce, perché la Juve comunque li ha ingabbiati per bene, secondo me la parte che Cancelo doveva fare dal punto di vista difensivo l'ha fatta abbastanza bene. Cioè non mi sembra di aver visto un Cancelo carente, ricordo solamente un piccolissimo, una piccolissima sbavatura all'inizio, poi però ha giocato benissimo e con la sua voglia di fare, con la sua offensività, con la sua voglia di spingersi in avanti ha praticamente divorato gli esterni della Lazio, in quel caso ha divorato Lulic, che praticamente non ci ha capito più niente, perché ogni volta che Cancelo lo puntava, ogni qualvolta che tu vedevi Cancelo prendere palla, sapevi già che Cancelo stava per arrivare sull'esterno, stava per mettere la palla dentro, stava per creare un'occasione da gol e ne ha create tantissime, perché se non sbaglio è da Cancelo che parte il secondo gol con la palla staffilata in mezzo, pronta e diretta per Mandzukic. Ditemi se sbaglio ragazzi, perché potrei sbagliare, non ricordo se la palla era di Cancelo o di Douglas Costa, comunque al di là di cui sono di Cancelo o di Douglas Costa, penso sia stata la miglior partita di Cancelo finora in bianconero, sicuramente avrà bene partite, avrà brutte partite, però secondo me la Juventus per il momento con Cancelo non si può proprio lamentare, perché comunque sta avendo uno stato di forma impressionante, ha una condizione fisica impressionante, perché se è stato esallenato anche se non è stato al mondiale, e comunque sta facendo vedere che un terzino moderno in una squadra come la Juve ci vuole, anche a costo di sacrificare qualcosa in fase di invenzione, secondo me ci vuole. Fatemi sapere nei commenti che le pensate. Grazie.